Tutti almeno una volta nella vita ci siamo lamentati del nostro cane e del fatto che spesso tira il guinzaglio. Partiamo dal presupposto che ogni essere vivente percepisce e vive l'ambiente in base al suo programma genetico e lo vive usando i sensi che sono un potentissimo mezzo di interazione. Il cane vive le sue emozioni, il suo modo di vivere il mondo in base alla sua natura e questo modo di essere è presente sia in libertà che con il guinzaglio. Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Oggi ti voglio spiegare che cosa si nasconde dietro un cane che tira il guinzaglio. Per tutte le persone il cane non deve tirare il guinzaglio perché non è un comportamento ammesso dall'addestramento cinofilo. Invece è assolutamente normale che il cane tiri al guinzaglio ma si può insegnargli a camminare correttamente vicino al compagno umano. Il cane quando interagisce con il mondo usa prima di tutto l'olfatto che è il senso più importante che ha a disposizione. Insieme all'olfatto percepisce gli odori e usa anche l'udito e la vista. In quel frangente è come se il cane sia all'interno di un mondo vattato. Sembra quasi che abbia chiuso tutti i canali di comunicazione con l'esterno ma in realtà sta lavorando con tutto se stesso. Per seguire la traccia presa deve per forza camminare e allungare il passo e questo porta il proprietario a pensare che stia tirando come un forsennato quando in realtà non è così. È proprio questo il motivo e non è che il cane è disobbediente come molti pensano. È assolutamente necessario permettere al cane di poter interagire con il mondo esterno per soddisfare i suoi bisogni primari e la sua fame di informazioni. Non è difficile, bisogna solo cogliere il momento giusto per richiamare la sua attenzione e riportarlo in passeggiata. Questo meccanismo che peraltro non è di difficile costruzione proietta il cane sull'uomo ancora di più e l'uomo sul cane. Questo forma un binobio indissolubile e una relazione così potente da resistere a qualsiasi evento esterno come altri cani o altri odori. È un po' come dare ed avere. Non pensare quindi che il tuo cane sia stupido perché non è assolutamente così, semplicemente ha un modo diverso di vedere il mondo e i suoi comportamenti funzionano in relazione a questa modalità. Ricorda sempre che il cane e l'uomo vivono il mondo da una prospettiva diversa. Il cane è più basso e più veloce e l'uomo è più alto e più lento. Per oliare questi processi si devono innescare dei meccanismi di attese di comprensione reciproca. Questo è il vero motivo che spinge il cane talvolta a tirare a guinzaglio. Non è stupido ma diversamente percepisce il mondo in una maniera differente dalla nostra. A volte aspettare è la cosa migliore. Aspettare significa capire e quindi agire in maniera empatica con chi ho davanti. Se ti è piaciuto il nostro video e vuoi seguire tutti gli altri metti un like sul nostro canale youtube.